Allora siamo qui con Daniele Forni, responsabile tecnico di Fire e innanzitutto ascoltando il tuo intervento durante il forum piscine la domanda più importante sicuramente è quale deve essere l'approccio più corretto da parte dei gestori di piscine per ottenere una piscina che sia sostenibile e rinnovabile? L'approccio più corretto sarebbe sapere dove si è, essere coscienti della propria condizione questo vuol dire misurare tutto quello che sono i propri consumi sia di vettori energetici sia di acqua e capire poi come questi consumi vengono divisi tra il riscaldamento delle piscine, il riscaldamento ambienti, acqua calda e così via e quindi riuscire a capire un pochino se la propria struttura è efficiente oppure no di solito poi ci si affida anche a un esterno, un professionista esterno che possa fare una diagnosi e quindi dare come andare dal dottore quindi oltre a sentirsi sani uno va dal dottore per avere una conferma di essere sano quindi affidarsi a un professionista che possa fare una diagnosi ovviamente con tutti i crismi e a quel punto il professionista proporrà una serie di soluzioni che possono portare la struttura a una più alta efficienza energetica quindi ridurre gli sprechi, aumentare tutto quello che sono i riutilizzi dell'energia, i recuperi e anche a coprire una parte del ridotto fabbisogno energetico anche con fonti rinnovabili perché le fonti rinnovabili di solito sono degli impianti che hanno dei più alti costi a parità di potenza quindi vale la pena andare a dimensionare correttamente l'impianto sul fabbisogno di un impianto natatorio di una piscina comunque già efficientata Durante l'intervento si è parlato anche di ESCO, quindi le Energy Service Company in che modo possono sostenere e aiutare i gestori di piscine o comunque di impianti sportivi? Diciamo che la ESCO è una figura in alcuni settori abbastanza nuova, in altri ha già un pochino più di storia è una società che va a fare una diagnosi, battiamo sempre sul tema della diagnosi fa una diagnosi energetica e propone degli interventi di efficienza o di utilizzo di fonti rinnovabili che più siano adatti al contesto dell'impianto di cui si sta parlando A quel punto la ESCO può in alcuni casi direttamente finanziare in tutto o in parte l'investimento per andare a realizzare questi interventi e poi ritorna di questo investimento andando a prendere una fetta dei risparmi che questo investimento porta rispetto alla situazione iniziale Questa è ovviamente una spiegazione molto semplificata che spero possa aiutare a capire ma le cose ovviamente sono un pochino più complesse perché poi contrattualmente bisognerà definire bene come valutare i risparmi, come suddividerli le ESCO di solito danno anche in alcuni casi delle garanzie su certi livelli di risparmio e così via Quindi non è un meccanismo così semplice ma è un meccanismo che ha dimostrato in molti casi di poter portare a dei risparmi di alcune decine di punti percentuali sull'energia utilizzata e anche sui costi di gestione degli impianti La ringrazio e al prossimo anno